ci vuole un po' per caricare ok ciao a tutti ragazzi di youtube oggi sono emonenti in compagnia di dragon luca 99 sono sbaglio giusto a tutti ragazzi si ho fatto siamo contro ciao ok 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 ma tu dove sei disquassare ok ok percorso se non è vero percorso io saremmo in concluso ma che cazzo no cittadino la cittina io sono cecchino o si o si a a a a a a a questo è quello vecchio c'è ancora quello più nocchie c'è quello nocchie si però la dei compreso steam nocchie fanculo carri i bambini fanno oh i bambini fanno oh no no non è vero nocchie aspetta ma chiude dentro questo aspetta c'è uno blu ma c'è un granato qua nocchie nocchie ma ti teletransporto da altre parti ma sai io ti ho dato a parte delle immagini noi facciamo vedere il coppia ok 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 io spero la cassa ok 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 io vi consiglio ok ok ma il cazzo di teletransporta ok 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 ma il cazzo ok 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 ma il cazzo di teletransporta ok 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 ma stina scoperto e non è che qua andate a dare a trovare quelli che è qualche tempo di rezzo non non ok 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 ma che cazzo hanno i cecchini ok ok beppo io sono italiano se guardi il nostro video sì tutti qua italiani no questi qua sono questi la maggior parte della gente che viene su questi server sono inglesi io comunque non so italiani ok 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 dovrebbero mettere dovrebbero mettere questo server sono inglesi Italia c'è un po' ha 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 un po' credito ecco attenzio it said 2 par troopsala are valutato 80 gli ho g 2 ad il si schiaccia appunto si prendo questo ah, c'è un po' l'effetto di carabinieri la mitragietta sarebbe la coppa no, non è la coppa, la CR e l'altro è una carabinieri e io la coppa no, la coppa, la CR si, sono primi verdi ora, sono con te sei verde? si minchè, è vero, tutti con il fucile con il fucile no manca me mi sapevamo sti-frosti 20 questo gioco, ragazzi, si chiama hayes space e il gioco del spacer e nel gioco come scaricando lo so si di tanti trovati che trovato 3 soggetto marco no sono la si ok ok poi finisco la mia registrazione spero che questo gioco vi sia piaciuto questa qua è la prima parte questa qua è la prima parte uscirà la seconda e da Emoliente e Luca e tutto